Più di un'opzione, una firma vera e propria. La Sidi Gassavellino ha comunicato in mattinata di aver raggiunto l'accordo con Shane Laval. È la vera scommessa del duo sacripanti alberani per l'estate 2017 su un giocatore inattivo dal 2016 per la rottura completa del tendine rotulio del ginocchio sinistro. Il centro nigeriano classe 86, campione d'Italia con ruolo da leader a Sassari nel 2015, ha provato più volte il rientro nel corso dell'ultima stagione. Chiusa l'esperienza in Liga SB a Barcellona, Laval ha sfiorato l'approdo alla Virtus Bologna durante l'estate. Le visite mediche hanno lasciato dubbi alle vunere sul recupero definitivo dell'infortunio al ginocchio. Libero da vincoli con la Sega Fredo, Avellino ha rilanciato dopo il primo interesse estivo. Cautelandosi con l'arrivo di Indiaie al fianco di Fesenco, la dirigenza bianco-verde piazza oggi una sorta di prelazione futura sulla Val, in attesa dell'integrità fisica. Domani l'ex Barça raggiungerà Roma e lunedì mattina la clinica Villa Stewart sarà sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico al tendine rotuleo con la guida del professor Mariani. Alla prima occasione utile l'avvio della riabilitazione per tornare sul parquet. Per la Siligas l'obiettivo è di passare in breve tempo dalla forma alla sostanza, con due lunghi Fesenco e Laval da recuperare, ma che ritrovati alla miglior forma fisica possono risultare come coppia dominante nel basket europeo. Con la firma di Laval si chiude il nostro mercato, ha affermato il DS di Avellino Nicola Alberani. Abbiamo messo sotto contratto un giocatore importante che crediamo ci possa aiutare in questa stagione. Shane ha molta voglia di rivalza, le sue motivazioni sono altissime.